Il crollo della gru in via Genova il 18 dicembre nel quale persero la vita tre operai per Torino e una ferita ancora aperta. Altri incidenti nei cantieri sono seguiti, tragedie ricordate oggi in prefettura, nel giorno in cui è stato firmato un nuovo protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della città metropolitana. L'ultimo era del 2010, un documento corale sottoscritto da enti locali, sindacati, ordini professionali, organismi di categoria e di vigilanza. Si punta sulla prevenzione, i firmatari si impegnano a condividere le informazioni, previste attività di formazione congiunta per imprese e lavoratori e una premialità per le aziende che investono di più nella sicurezza. Un altro aspetto che si vuole contrastare è quello del cosiddetto dumping contrattuale. Negli ultimi anni, dal 2018 in poi, c'è una proliferazione di contratti, specie nel settore edile, che sono contratti a ribasso. Si tratta di contratti diversi da quello specifico dell'edilizia, meno costosi, che possono portare a meno sicurezza sul luogo di lavoro. Le novità più importanti sono quelle di avere un protocollo condiviso con tutti gli stakeholders e le persone coinvolte nell'ambito del settore dell'edilizia sulla città metropolitana di Torino. Gli incidenti sul lavoro riguardano non solo i cantieri edili. Rete Iside, Onlus e Unione Sindacali di Base sono tornati a chiedere di istituire il reato di omicidio sul lavoro dopo la morte di Davide Scanio, 32 anni, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, mentre lavorava in azienda. Quest'anno, sottolineano le sigle sindacali, sono già 250 le morti sul lavoro evitabili in Italia.